Rieccomi a voi, Ruggero Bonanno, il vostro consulente immobiliare Remax. Dopo l'ottimo successo del mese scorso, oggi con questo video voglio invitarvi all'open house che si terrà a Varesi in via Postumia numero 37, sabato 15 febbraio dalle 10.30 alle 12.30. Siamo all'interno di un contesto di recente costruzione, come potete apprezzare dalla rifinitura di questo immobile, è un ottimo tre locali, è costituito da soggiorno con cucina vista, due camere e bagno, un importante accessorio esterno dato da questo terrazzino con una discreta visuale e completano l'immobile un box ed un posto auto. Vi aspetto, a presto!